Musica Fabio Lupo finalmente nella tua Pescara per un breve riposo al termine di un campionato davvero particolarissimo per i motivi che sappiamo La tua ex squadra, il Venezia, da un paio di settimane c'è stata la risoluzione del tuo contratto come direttore sportivo poi magari ci direi qualcosa in più, si è salvato all'ultima giornata così come si è salvato il Pescara grazie ai calci di rigore nello spareggio contro il Perugia Dove vogliamo partire? Qual è il ricordo che ti è più impresso Fabio? Direi che a Venezia è stata una stagione molto positiva perché se pensiamo da dove eravamo partiti Un anno fa di questi tempi il Venezia non si sapeva ancora se avrebbe fatto la Serie C o la Serie B C'erano solamente sei contratti, non c'era un allenatore, c'era un ambiente depresso Siamo ripartiti da lì, se pensiamo a dove siamo arrivati, undicesimi con 50 punti valorizzando tanti giocatori, ricreando un patrimonio tecnico di un certo livello valorizzando anche un allenatore sconosciuto e più io direi che sia stato fatto un ottimo lavoro quindi l'archivio sicuramente è una stagione molto positiva macchiata come per tutti quanti noi da questa cosa imprevedibile, incredibile che è stato il Covid che in qualche modo ha segnato anche questa stagione Fabio accennavi a questo allenatore Alessio Dionisi che tra l'altro credo abbia firmato proprio in queste ore con l'Empoli non so se ti risulta questa cosa e su cui magari anche il Pescara aveva fatto un pensierino è un tecnico emergente, valido? L'anno scorso di questi tempi tutti mi facevano i complimenti di aver preso questo allenatore tutti dicevano che erano bravi però l'unico che ci aveva scommesso sono stato io come spesso mi è accaduto nella mia carriera è un allenatore che ha ancora tanti aspetti da migliorare sicuramente perché è un allenatore molto giovane che non ha un grandissimo background da calciatore e da allenatore quindi su alcuni aspetti anche gestionale l'allenatore ha ancora da fare però quest'anno ha fatto molto bene è stato molto bravo nel dare un'identità a questa squadra il nostro Venezia ha sempre giocato un calcio propositivo dovunque è andato abbiamo perso, vinto, pareggiato però sempre con una nostra idea di gioco forse è stata una delle squadre del Venezia che ha fatto il miglior calcio in questa stagione e quindi parte del merito va sicuramente a questo allenatore Te lo chiedo subito, perché si sono divise le strade tue del Venezia? C'è stata una notevole divergenza di opinioni sulle modalità operative il presidente americano, il nuovo Niederauer non Taccopina, il presidente Niederauer voleva un calcio condiviso con un gruppo di lavoro basato su dati analitici, dati statistici secondo me voleva accelerare anche le scelte strategiche sul futuro tutte queste cose qui non mi hanno trovato mai d'accordo io ho espresso sempre la mia opinione ritenevo fosse importante intanto chiudere questa stagione portare il Venezia in Serie B e da lì poi ripartire partendo oltretutto da un patrimonio tecnico già di valore quindi non c'era necessità di velocizzare incominciare a costruire il futuro non c'era un futuro a costruire c'era un presente su cui lavorare per poter garantire un futuro su queste cose abbiamo trovato divergenza di opinioni e abbiamo ritenuto opportuno dividere le nostre strade Ti chiedo naturalmente qualcosa anche del Pescara perché voi lo avete incontrato proprio subito dopo il lockdown nel mese di luglio, credo, metà luglio è finita 1-1 anche all'andata finì in parità 2-2 perché queste due squadre, il Venezia in parte ha detto qualcosa hanno trovato tanta difficoltà quest'anno nel campionato di Serie B che idee ti sei fatta insomma del Pescara? In generale è stato un campionato equilibratissimo tanto è vero che hanno fatto i play-out due squadre che all'inizio erano pronosticate come possibili partecipanti ai play-off invece si sono ritrovati a fare i play-out e viceversa vediamo lo spezza che è un passo da un sogno quindi è stato un campionato molto particolare molto molto equilibrato reso ancora più particolare dalla sosta per il lockdown che ha chiaramente un pochettino alterato alcuni equilibri che si erano creati il Pescara obiettivamente ha fatto un campionato al di sotto delle potenzialità del suo organico però ripeto è stata una stagione talmente particolare talmente strana che ci poteva stare e in queste stagioni qui a volte succede succede anche che è l'imponderabile è buon per il Pescara che sia riuscito anche attraverso la lotteria dei calci rigore ma sia riuscito a mantenere la categoria perché credo che comunque sia un traguardo importante Ecco se vogliamo essere un po' più precisi secondo te qual è stato anche se tu l'hai vissuta da fuori il problema principale del Pescara magari aver cambiato chiaramente allenatori o anche qualche altra cosa Come diciamo qua in Abruzzo quello che succede nella Pignata è solo le cupine diciamo noi e quindi è difficile giudicare dal di fuori cosa può essere accaduto dentro certo cambiare tre allenatori quando si cambia tanti allenatori vuol dire che non si è seguito in linea gestionale che qualche problema c'è stato quindi sicuramente nella guida tecnica qualche problema c'è stato o prima o dopo qualcosa è accaduto però ripeto sono valutazioni che faccio molto superficialmente guardando le cose dall'esterno certamente nel mercato di gennaio perdere un giocatore come il Macine con un grande valore individuale è stata una perdita importante forse quella cessione lì è stata un attimo sottovalutata Per programmare il futuro tu me lo insegni bisogna ripartire soprattutto dopo aver individuato la guida tecnica all'allenatore in questo momento si sta decidendo proprio il futuro della guida tecnica del Pescara potrebbe rimanere Andrea Sottil sembra che abbia la fiducia da parte della dirigenza secondo te è una scelta valida ricordiamo che Sottil è un allenatore anche lui emergente che ha tanta voglia però insomma ha dimostrato già qualche sua qualità sicuramente come gestione del gruppo Andrea è arrivato qui con grande determinazione ha portato dentro tutta la sua voglia tutta la sua rabbia l'ha trasmessa al gruppo tanto è vero che la squadra è stata molto riconoscente anche nelle dichiarazioni è subito allegata a questo allenatore credo che lui possa meritare una chance quello che deve fare però la dirigenza è chiaramente essere convinta perché fare una scelta semplicemente per gratitudine come a volte accade in queste situazioni qui sarebbe già un errore se invece sono convinti che Andrea in questo momento ha costruito già qualcosa anche da un punto di vista morale tecnico perché ha dimostrato anche d'utilità capacità di adattarselo organico ha dimostrato delle capacità però bisogna crederci senza farsi prendere da ciò che è naturale e c'è un sentimento di gratitudine perché comunque Andrea ha fatto un grande lavoro hai risolto il tuo contratto con il Venezia il tuo futuro come lo stai valutando? come ti stai muovendo anche tu? per il momento mi godo giorno per giorno questa meravigliosa città visto che comunque tra l'altro il mare è anche più pulito quindi mi godo giorno per giorno la mia pescara come raramente non vuoi star fermo come raramente mi era capitato in passato poi ci sono alcune situazioni ancora in evoluzione le valuterò con grande attenzione non sono il tipo che si fa prendere dalla voglia necessariamente di stare dentro di lavorare così voglio che ci sia una situazione giusta molti mi hanno detto hai fatto una stagione straordinaria io dico con un pizzico di presunzione ho fatto questa stagione perché ho potuto fare dalla A alla Z ciò che ho voluto io ciò che ho potuto fare nell'ambito di un budget rispetto ad un budget ma all'interno di quello mi sono mosso in assoluta libertà grazie al grande lavoro anche di Armando Ortoli che è stato al mio fianco in questa annata qui abbiamo potuto fare tutto quello che abbiamo vi abbiamo voluto e i risultati sono arrivati ecco io cerco una realtà che mi permetta non dico di fare tutto ma di fare quello che la mia esperienza di 40 anni ormai mi ha insegnato di poterla portare senza grandi compromessi senza grandi grandi forme di diplomazia cercando di portare avanti quella che è la mia passione quella che è la mia competenza laddove c'è questa disponibilità io sono pronto laddove non c'è continuo a godermi la mia città senti Fabio tu sei di Pescara però come giocatore come anche direttore sportivo come dirigente le due strade non si sono mai incontrate un giorno chissà io in realtà la mia carriera dirigenziale nasce a Pescara da responsabile del settore giovanile grazie a così a un'intuizione parlavo di prima squadra se così possiamo chiamarla di Andrea Iacone no è vero non si sono mai qualche volta c'è stato qualche contatto qualche idea così poi non si sono mai incrociate mai dire mai nella vita però probabilmente qui a Pescara sanno come sono fatto quindi sanno bene quando ci sono le condizioni per chiamarmi magari arriveranno però io sono molto sereno e continuo chiaramente sempre a fare il tifo per la squadra della mia città salvo quando la incontro da avversario ma questo è normale la prossima serie B a parte le squadre che sono scese tutte grandi squadre ma anche quelle che sono salite squadre ambiziosi insomma sarà una sorta di A2 eh no sarà una B ancora più qualitativa secondo me con un ulteriore equilibrio verso l'alto perché come hai gestamente sottolineato tu sono salite tre realtà perché a parte Monza e Vicenza le cui proprietà sono proprietà importanti ma anche la regina comunque ha fatto negli ultimi anni i mercati di un certo la regina la regina stessa hanno fatto mercati di un certo livello quindi portano anche tradizione sarà un bellissimo campionato anche il prossimo bisogna stare molto molto attenti e fare le cose nella maniera giusta sarà un campionato molto molto bello e equilibrato come lo è stato quello di quest'anno davvero l'ultima ammettiamo che siamo già in fase di mercato già lo siamo in realtà se tu dovessi consigliare uno o più giocatori al Pescara sappiamo che la merce rara è l'attaccante però anche spaziando a centrocampo anche in difesa chi consiglieresti? ci sono tante tante idee tante cose un po' me le tengo per me caso mai dovessi rientrare in pista io posso consigliare come attaccante ciò che ho avuto quest'anno a Venezia perché ho avuto due giocatori come Longo e Capello che secondo me sono due giocatori molto forti per la categoria sono giocatori che oltretutto il cappello del Venezia Longo e dell'Inter sono giocatori che secondo me il prossimo anno in B potrebbero fare molto molto bene grazie Fabio Lupo in bocca al Lupo per tutto ciò che vuole il tuo cuore grazie a voi grazie per l'invito è stato un piacere grazie a tutti